Sicuramente noi dobbiamo saper tradurre il fatto che la sostenibilità è un qualcosa di doveroso rivolto anche nei confronti delle future generazioni. Più volte ci siamo confrontati partendo proprio da Sisi come elemento e momento centrale e soprattutto di sfida lungimirante che alcuni soggetti di carattere economico diversi fra di loro ma insieme hanno condiviso nel creare nuove opportunità anche di sviluppo e di crescita per il nostro paese. Noi riteniamo che l'agricoltura italiana sicuramente molto potrà fare, molto ha fatto, non a caso è la più sostenibile a livello mondiale, ma riteniamo che le sfide ulteriori che dovremmo saper attuare creeranno le condizioni per ancora una maggior distintività sul nostro modello produttivo. Proprio per far sì che l'ambiente sia sicuramente centrale rispetto a tutte le opportunità che noi potremo avere indipendentemente dalle filiere alle quali noi saremo chiamati a guidare in termini di traiettorie e in termini di futuro. E fa specie che tante volte anche in questi giorni dove si discute sulle linee guida che vengono date anche a livello europeo nella Farm to Fork, su tutte quelle che sono le iniziative di attenzione rispetto ai futuri modelli produttivi, ci sia chi cerca di esasperare la situazione dicendo che tutto questo non è fattibile o attuabile rispetto a una drastica diminuzione rispetto alla possibilità di avere raccolti nel nostro paese in modo più ampio a livello europeo se non addirittura a livello mondiale. Ecco questo è l'ennesimo tentativo per lasciare le cose invariate. Noi riteniamo che non sia assolutamente così. Noi dobbiamo saper cogliere le sfide legate all'innovazione, legati agli aspetti tecnologici, legati all'agricoltura di precisione, legato a tutto ciò che l'economia e soprattutto le attività e i sistemi di modelli produttivi energetici ci possono mettere a disposizione in termini di innovazione e ancora una volta riuscire poi a tradurle nella quotidianità del lavoro che le nostre imprese svolgono. In che modo? Ad esempio non creando ulteriore burocrazia, rendendo tutti i passaggi più semplici, più snelli, creando un modello per il quale le aziende siano facilitate nell'attuare un modello che sia più sostenibile ma che guardi alle sfide future, ad esempio utilizzando tutto il tema delle energie rinnovabili nelle varie forme che ci possono essere. Per arrivare a forma di utilizzo, lo diceva benissimo Katia Bastioli, di sostanza organica in fase di concimazione del suolo per dare una risposta anche di carattere ambientale rispetto a un problema che purtroppo ci preoccupa legato anche alla desertificazione dei suoli per un quantitativo in termini di eccesso che è stato forse anche abusato negli anni passati di sostanza chimica. Il manifesto di Assisi ha una grande validità nel momento in cui ha saputo mettere non solo intorno a un tavolo ma aprire un dibattito forte nel paese in tempi non sospetti e questo bisogna riconoscere un grande merito a Ermete Realazzi che ne è stato il fautore, l'ideatore, poi noi è vero, ognuno di noi poi ha fatto la sua parte ma a Ermete questo va assolutamente riconosciuto. Nell'anticipare anche alcune direttive di carattere comunitario che poi oggi stanno arrivando e dovranno comunque essere attuate. Quindi noi non abbiamo e non dobbiamo aver paura di saper cogliere le sfide future quando parliamo di ambiente e di territorio e di sostenibilità. Anche sotto questo punto di vista la grande demagogia che c'è nel cercare di sminuire un ruolo importante che l'agricoltura e soprattutto l'agricoltura biologica ci potranno dare in termini di ulteriore crescita e sviluppo e soprattutto certezze per quanto riguarda le nostre imprese in un'attenzione che deve essere sempre più focalizzata sui bisogni dei cittadini e dei consumatori e mettendo al centro anche quello che i consumatori e i cittadini ci richiedono ad esempio su una forma che riguarda tutto il tema anche del sistema di tracciabilità che può essere ulteriormente sviluppato per raccontare la verità. Ecco tutti questi sistemi noi riteniamo che ci possano assolutamente aiutare proprio nel creare quelle condizioni perché in modo diffuso sempre più soggetti e ambiti diversi possono dialogare fra di loro creando una consapevolezza che se insieme sapremo tradurre in fatti concreti quelle che sono le opportunità che possono ricadere sul nostro sistema produttivo ancora una volta l'Italia non solo potrà vincere ma potrà garantire sviluppo e crescita ma una crescita che guarda un modello produttivo sicuramente diverso rispetto al passato. Presidente Brandini approfitto della sua sintesi perché lei ha parlato per due minuti in meno per farle una domanda visto la platea che abbiamo qui di fronte che è composta da giovani e da studenti perché per ricordare quanto l'agricoltura italiana sia attrattiva nei confronti dei giovani pochi sanno per esempio che noi abbiamo un primato assoluto che è quello delle giovani donne dirigenti di aziende agricole sono circa 17 mila in tutta Italia e imprese e imprese giovanili. Vogliamo sia pure brevemente in un minuto ricordare questo ruolo dell'agricoltura? L'agricoltura oggi sta dando sicuramente un'opportunità di occupazione ma di impegno per quanto riguarda le nuove e le future generazioni soprattutto per quanto riguarda i giovani noi abbiamo un primato a livello europeo per imprese che vengono oggi attivate e attuate nuove imprese che nascono guidate proprio da giovani stessi che hanno magari anche un percorso di vita personale che non deriva o proviene da famiglie di agricoltori e questo ci fa ben sperare non solo perché c'è una forma di continuità ma perché i giovani possono essere coloro che traducono in modo ancora più veloce, puntuale, attuale anche tutti quelli che sono i sistemi, i modelli di utilizzo, di strumenti di carattere tecnologico per arrivare ad attuare tutto ciò di cui prima parlavamo. Allora di fronte a questo i giovani vanno però accompagnati e mi spiego meglio quando intendo accompagnati nell'avere delle certezze che la prima certezza è avere una giusta redditualità del lavoro che svolgono. Purtroppo in agricoltura negli anni passati questa certezza spesso e volentieri è mancata mentre invece noi riteniamo che per far sì che i giovani che oggi si avvicinano all'agricoltura continuino ad occuparsi di agricoltura devono avere anche una giusta soddisfazione del lavoro che svolgono ma contestualmente si devono aprire anche al mondo in termini di confronto e l'apertura mentale che i giovani oggi hanno potrà far crescere ulteriormente l'agricoltura italiana. I numeri che oggi noi rappresentiamo arrivo all'aspetto conclusivo sono altrettanto confortanti quando vediamo il ruolo delle imprenditrici femminili. Oggi un terzo dei nostri imprenditori è donna e le donne non hanno più un ruolo marginale all'interno dell'impresa agricola ma sono imprenditrici sotto tutti i punti di vista e sono state anche coloro che ci hanno aiutato a creare le condizioni perché ci fosse più attenzione sui temi di cui oggi noi stiamo discutendo forse perché hanno anche una sensibilità maggiore rispetto all'uomo ma contestualmente hanno anche una visione nel sapere intraprendere e comunicare in modo puntuale rispetto a quella che è una collettività sicuramente basta. Quindi riteniamo che veramente ci possano essere grandi opportunità, sta a noi attuarle, sta a noi aprirci in un confronto reale su quelle che possono essere le sfide che creino ancora di più le condizioni sulla distintività, sul modello distintivo che l'agricoltura italiana può rappresentare per l'intero paese.